tu sarai mia ora servirò la tata tata, prendi oh no presto mi amerai doctor evil, tu non mi avrai mai ti sono mancato no vai via oh bene sei tu la nuova tata? non mi piace oh sì, ma aspetta un attimo ciao, sono la nuova tata bene fatti i bravi, ciao che un bastidino ehi ragazzino puliamo questo pasticcio oh, va bene intanto pulirò tutto quanto mi dai una mano? ti credi di essere curvo, eh? adesso ti faccio vedere che male ho il mio piede povera me divendiche sono più intelligente di te ecco che arrivo adesso come pensi di cavartela? come? cosa mi fai? hai avuto quello che ti meriti rotola e ripulisci tutto adesso cosa hai detto? cosa hai detto? tanta cattiva vedi? adesso i giocattoli non sono più sparsi in giro cosa? fai solo serio? oh, hai ricevuto un messaggio quale messaggio? offa io ho fame oh, dei marshmallows tanta cattiva oh, cosa fare? finalmente potrò vendicarmi ora sono cavoli i soldi oh, cosa? oh, la mia pancia ciao devo andare in bagno presto, presto, presto è peggio di una bomba atomica aspetta cosa? non c'è la cartigenica oh, no perché a me? tasa oh, oh aia che diavolo oh puoi fare di nuovo il furbo, eh, Tommy? oh, Tommy oh, ups esci subito eccoti e dammi qua grazie oh, che monello cosa? che schifo aspetta ma sa di oh, volevi farmi uno scherzo? non è così, Tom? adoro il cioccolato ehi, ragazzino non muoverti prendi questo senza che schiena io me ne vado a letto non credo proprio che c'è? prima devi lavarti i denti no prima fammi vedere vedi? non sono sparti guarda di nuovo vediamo ti aiuterò io cosa ha nei miei denti? rimani fermo cosa? è troppo adesso ci penso io oh, devo solo strofinare per bene ma cosa diavolo hai mangiato Tom? basta sono puliti wow, brillano ogni d'oro buonanotte Tom oh, finalmente oh, cosa? scelta devi leggervi una storia ok, ecco un giorno Liam un ragazzo di undici anni è salito sulle montagne russe cosmiche indossava degli stivali molto grandi oh, che cosa è stato? chi c'è? oh di nuovo lui tu mettiti questo trovata wow wow prendi questo non avresti dovuto interrompere la mia storia come hai usato? metti avanti hey, Tata ti penso io mi serve un'arma adesso vedrai sì wow wow che figata Tata Tata guarda qui ciao ragazzino continuo pure a giocare va bene non puoi battermi ora ti sconfiggerò piano ok mi arrendo o forse no oh ti ho messo non batti so qual è il tuo punto debole saletico saletico continuo allora ti sto divertendo tu sto vincendo io ne sei certo è ora di dormire dormire ora vedrai addio per sempre spero ti piacciono a tu Tata mi sono divertito tanto notte notte Tata buonanotte tesoro oh è tornato ti prenderò luna goditi il viaggio che nottata cos'è questo suono sul serio una banana credo che sia una specie di trasmettitore ehi sei tu ehi luna sono io dove sei sto lavorando come Tata cosa fai la Tata che vuoi Tata guarda cosa ho trovato sono sotto copertura idiota Tom perché stai parlando con una banana la sto mangiando guarda buona luna cosa ha quella ragazza sempre più strana io me ne vado Jarvis Jarvis ehi Jarvis ma non funziona riesci a sentirmi Tata hai visto il mio che dio ho già visto mi senti ehi Tata cosa ci fai qui oh beh mi sto facendo una doccia non ho parole ma ma dove è l'acqua l'acqua acqua 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 come vuoi l'acqua sta arrivando vedi sto facendo la doccia ora ora esci qualcosa non mi torna dovrò sfiarla aspetta Jarvis sei tu Jarvis svegliati Jarvis svegliati sì Luna sono qui copia 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 hai qualche novità mi dispiace sono allergica a qualcosa torno subito che strano che diavolo pronto Luna può parlare cosa sta succedendo le piante possono parlare aspetta un attimo sto facendo la doccia la sta mangiando mettiti questo ora capisco tutto sono tornata scusa dove eravamo tata aiutami Tom oh no aiutami che strano ok cosa ho calpestato oh no fai attenta Tom ti salverò io ora devo passare di lato sì con molta delicatezza facilissimo wow cosa ci sono quasi sì sei salvo sei bene 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 grazie tata conosco il tuo segreto cosa cosa sta succedendo i laser non erano reali certo che no tu sei una sciocca e io sono un genio ora ho le prove Tom aspetta devo mettere le prove in un posto sicuro cosa intendi ti ho filmata so chi sei sai chi sono tu sei tu sei tu sei una campionessa olimpionica cosa sono una spia una spia ma come fa una spia ad essere così flessibile cosa sono anche una campionessa olimpionica non mi interessa adesso pubblicherò il video su youtube tutti ti vedranno carica non puoi lascia che ti mostri qualcosa cosa guarda in basso dammi la mano cos'è questo posto quante cose fighe qui ma è fantastico divertiti cos'è quello figo i miei occhi sono così grandi anche i miei denti cos'altro c'è ehi Tom ti ho spaventato vero wow in questo posto ci sono un sacco di cose fighe e questo cosa fa non mi piace fa niente wow com'è colorato cosa fa forse seppur qui Tom mettilo a ok lo metterò via ma nessuno lo saprà qui starà al sicuro potrebbe servirmi ascolta Jarvis se mi uccidesse qualcosa e ciao Tom saluta Jarvis aspetta ok Luna come va ragazzino ti stai divertendo? a proposito Jarvis hai qualche notizia su Dr. Evil? sì Luna ora è nell'oceano atlantico quindi va tutto bene ottimo grazie wow ho un regalo per te ciao Charlie un regalo ciao evviva ecco il tuo regalo wow adesso questo è uno zaino speciale dentro cosa c'è Tata? tra poco vedrai ecco chi arriva wow una gate bag ma non è tutto darò lo zaino grazie sei la tata più figa del mondo tesoro come sei carino cos'è stato? è lui oh no 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 Tom devi nasconderti adesso che fai? ciao ti sono mancato ciao doctor mai ho preso la tua arca sei mia no tu berrai con me tesoro tata devo aiutarla ehi tu lasciala stare tu chi sei? questo ragazzino è tuo? oh il mio zaino potrebbe esserci qualcosa di utile cosa ci fa questo papizzi qui dentro? via quanto tempo ci vorrà ancora? cosa? donna a me non solo tu ecco cosa cercavo un po' piccolo che la forza sia con me ora ti faccio vedere io lasciami andare allora bene ragazzino ci si vede dove mi trovo? oh ehi Tom tu? è la prima volta ma che vuole? Luna no dammi la tua mano Luna vieni qui Luna stiamo così tanto saremo insieme per sempre cosa? diavolo sapevo che non sarebbe stato facile ecco perché ho creato questa ti innamorerai di me e sarai mia no sarai mia oh no cosa dovrei fare? ma certo devo solo raggiungerlo sì prendi Luna prendi mostro malvagio e questo io non lo voglio ehi Tom stai bene andiamo sì ok sbrigati e io che c'è? aspetta aspetta un attimo oh grazie Thomas sapevo che sareste tornato indietro eccoti qui tu mi servi che dio sbrigati sbrigati certo tesoro dobbiamo tornare a casa un muro c'è un muro oh no volete andarmene per assaggiare la tua stessa medicina amati amati cosa mi sta succedendo? dottor evil sei così bello no sei bellissimo grazie accidenti siamo a casa siamo a casa mi sono divertita così tanto grazie per avermi salvata e di che? siamo una squadra di spie evviva evviva ecco che arrivo non muoverti ho la testa ehi sono io rilassatevi ottimo lavoro ragazzino lo so sì signore ok oh no dobbiamo muoverci Luna abbiamo una nuova missione ma non è la mia tata aspetta dammi solo un minuto tesoro ho qualcosa per te ecco lui è il tuo nuovo amico wow grazie tieni sempre Dino con te così saprò che stai bene ciao tesoro ok ciao ciao tata questo è mio figlio Tom bella una buona fortuna beh immagino che dovrei cominciare io sono lunedì e questo è Manu non mi metti paura veramente? ma non facciamoglielo vedere che cosa? che schifo sarà facile dunque è ora di disegnare vediamo se ti piace questo è il mio capolavoro oh wow tata guarda Manu tienimi per un attimo questo ridammelo lasciami in pace sei fortunato che tua madre mi paga bene altrimenti non sarei così paziente copriamo anche questo finalmente è ora di dipingere così adesso ti faccio venire io tata adesso come farai? e che ci vuole? mi stai sopravvalutando? cosa? bel tentativo ma come? ti farò vedere io devo lavarmi? ah finalmente posso farmi una doccia carnici e gel non è di apri la porta ancora dieci minuti me la sto per fare sotto è troppo tardi oh no il mio succomo ti farà uscire da lì vediamo che cosa abbiamo qui penso di avere un'idea bene è ora di rompere il tubo ma dov'è l'acqua? sul serio? adesso fatti una doccia con questo oh oh ma dai oh oh finalmente che strano odore oh ma cos'è? oh assaggiamolo ma è succo hai deciso di andartene? oh 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 dannazione oh patetico la prossima volta usa il sangue vero finalmente sei uscita oh non ce la faccio più oh 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 ma che bella paperella volevi fare un bel bagno eh? ora ti faccio vedere io tu sei pazza puoi scommetterci quindi faresti meglio a non giocare con me devi raccontarmi una storia beh ne conosco una c'era una volta un ragazzo gli piaceva molto il suo peluche ma poi rimase da solo con il peluche dai denti molto affilati mostro oh che cretino non ci sono i mostri non raccontarmi più storie come desideri oh cos'è? oh wow wow che cos'è stato? oh 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 cosa sta succedendo? cacco matto ehi tu vai a dormire non c'è proprio strada domani alla stessa ora oh sul serio? altri cinque minuti che cos'è? cos'è questo terribile rumore? oh oh sei tu abbassa la musica per favore cosa? la vuoi più forte? va bene guarda che masse va bene non mi lasci altra scelta ma dove? boom prendi questo è tutto ciò che sai fare? schivato la mia mossa alla matrix oh no la mia musica peccato e adesso? che esagerazione che schifo togliti di torno la colazione no non credo proprio cos'è questa roba? sembra disgustoso devi mangiare sano non lo voglio oh che moccioso ho qualcosa per te quando lo vedrai mi pagherai per questo porridge ecco e aggiungiamo alcuni pidi gelatina grande ora vediamo la sua reazione ma quella è terra quasi dimenticavo boom cosa? smettila è disgustoso portalo via va bene preferisco il porridge come vuoi io odio il porridge non se ne accongerassero uno secondo qui vero? il nostro piccolo sporco segreto non dirlo a nessuno ho finito grazie ecco la tua caramella grazie la mia caramella io amo così tanti dolci sono il distruttore dei denti c'è una festa? oh sei solo tu i miei denti è per colpa tua oh ma com'è l'agnoso oh che cos'è questo? un filo? che cosa ci vuoi fare? smettila di resistere è per il tuo bene pronto? che cosa? aspetta cosa hai intenzione di fare? tre due teniamo subito due cosa? aspetta un attimo so cosa fare pronta per le montagne russi uno aspetta il mio dente sul serio? mano sai cosa fare? musica per le mie orecchie che bello ti faccio vedere io che esperienza mi inizio iniziamo con te amico dammi la cacca piscitillante di sempre oh oh mi scappa oh oh mi scappa grande questo è esattamente ciò di cui ho bisogno eccezio male guarda come brilla oh e cosa abbiamo qui? so una o due cose sulle pozioni grazie ora vattene mescoliamo il tutto professor Piton sarebbe orgoglioso ma non vale niente se non luccica wow sì glitte fa niente oh con questa devo fare attenzione oh la pozione definitiva contro il lui preparati adesso ti faccio vedere io e qui ecco che arriva la bomba vai piccola che cos'è questo? oh oh vediamo oh ora capisco cosa significa essere maledenti è uguale alla camera della mia amica Enid è davvero terribile Ti è piaciuta la bomba? Ho una soluzione Userò questi Cosa? Ora va molto meglio Ora è tutto nero Niente più colori brillanti e allegri Cosa? Stai imparando? Mettila Che succede? Siamo amici? Ehi tu Ho avuto una strana visione Sei strana Io vado al parco Sì, eccoci qui Levati di mezzo Levati di mezzo Sei sicuro di saper guidare? Ora patenti Vedo Ehi, buongiorno ragazzi Va tutto bene? Sì, agente Fatte attenzione C'è un guidatore pericoloso in giro Oh, dice sul serio Je ne parle pas français Sì Cosa? Sì Grazie, agente Buona fortuna, allora Tom Andiamo al parco Prendi questa E prova a farsi Oh no Addio, Tom Cosa sta succedendo? Finalmente Mi sbarazzino di te Sei pronta? Dai, stupida freccia Bota le tocche di falco attivata Oh, sei proprio come mio fratello Vorresti dire che non hai paura? Ma noi giochiamo sempre in questo modo Stai zitta E ho bisogno di soldi Per comprare i biglietti Per vederlo Allora? Tom Hai una sorella? Una sorella? No Ottima mira Stai bene? Intento Devi vedere tuo fratello Posso essere tua sorella per un po'? Non ho bisogno di una sorella Ok Ho sempre desiderato una sorella Divertiamoci Sì Turn me on the dance floor Don't be shy I know you want it I can read your signs I can choose a feel of my phone One night One night La 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 Start to playing on your body You come closer from this You have fun I already stir the fire Come on, don't be shy Ah Sun and sky so high Girl, we can't hide Ah 를 looking slowly I could won't need my eyes Ah Tell me what you like Tell me what you like Ah, ma è una stanza segreta! Puliamola! Ho sempre voluto avere una stanza segreta! Ma è un ragno! Aiuto! Aiuto! Ora le mie estate saranno nello stesso posto! L'ho sempre sognata! Ti piace? Sì, ma devo andare da mio fratello! Cosa? Non adesso! Devi stare con me per sempre! Oh, beh, beh! Silenzio! Vuoi fare un ultimo scherzo? Sì! Manu ti aiuterà! D'ora in poi farà degli scherzi con te! Promettimi che ti comporterai bene! Sì, sono pronto! Un'altra tata! Dammi la tua bella guancia! Che carino! Disgustoso! Vedo che ti piace il tuo cibo! Prendi! Prendi degli altri broccoli! Adesso, Master! Ehi, tata! Sì, Tom! La mia bella, che strega! Cosa sta succedendo? Oh no, aspetta! Ora, cosa? Tom? Dove... Oh, la mia testa! Oh, i miei occhiali! Va bene, Tommy! Aspetta, Tommy! Spero che mi pagheranno lo stesso! Ti salverò io, Tom! Sono ancora forte! Mi stavo per dimenticare! Tom! Stai bene, tesoro! Dada, che succede? Questo ragazzo è un mostro! E ragazzi, prendete questo! Scappando!